Chiede misure cautelari per il ventenne indagato per omicidio stradale che a ferragosto era la guida dell'auto su cui viaggiava Valeria Cinali che si è ribaltata non dando scampo alla sedicenne deceduta due giorni dopo all'ospedale di Pescara e per farlo ha depositato tramite i legali Monia Cinali e Ruggero Romanazzi una querela. È il fratello della ragazza termolese scomparsa per le gravi ferite riportate in quell'incidente. Alla piccola donna l'intera comunità lo scorso 24 agosto ha tributato un commovente omaggio salutandola con applausi e palloncini e in quell'occasione nel giorno delle esecue il padre con delle accorate parole lette in chiesa dal parroco ha fatto appello ai giovani perché abbiano cura della vita. Gli accertamenti degli inquirenti ruotano attorno alla velocità del mezzo che quando è finito fuori strada percorreva la provinciale 51 strada che collega Termoli a Petacciato. In queste ore è iniziata la perizia sull'auto posta sotto sequestro. È ad opera dell'ingegnere Giovanni Russo nominato dalla procura di Ilarino. Il professionista si occupò anche delle analisi tecniche sulla panda di Victor Imbucci recuperata dal mare il 22 gennaio del 2020. Nella denuncia presentata in queste ore oltre alla misura cautelare per lo studente che era al volante il fratello di Valeria chiede di ascoltare alcuni ragazzi che al momento dell'incidente si trovavano proprio in quella zona il curvone della provinciale 51 su cui la mini ha sbandato. L'obiettivo è fare piena luce sull'accaduto e appurare eventuali responsabilità nella morte di Valeria. Grazie.